Domani in campo le abruzzesi del Girone F di Serie D. Due grandi sfide in programma. Il Chieti contro la Samb in trasferta in diretta in esclusiva sul Rete 8. Avezzano e l'Aquila contro nel derbissimo del Dei Marsi. Il notaresco completa il quadro. In casa contro il Monte Rotondo. Il Chieti domani a Riviera delle Palme sfida la Samb in diretta su Rete 8 dalle 14.30. Sospiro di sollievo per il tecnico Luiso che recupera Salvatore dopo il fastidio al flessore e gli riaffida una maglia da titolare. In attacco attesa per il grande ex, Amet Fall, un passato in rosso-blu anche per Conson. Il bomber assegno anche all'andata nel gol del 2-2 al 94esimo. Ancora out Caterino mentre torna a disposizione la Ziz che va in panchina. La gara del Riviera delle Palme significa tanto anche in termini di classifica per i neroverdi. Il Chieti, reduce da tre vittorie consecutive, si gioca la prova del 9 per tentare l'aggancio alla zona play-off distante tre punti a sei giornate dalla fine. Saranno più di 200 i tifosi neroverdi al seguito, un numero destinato a salire perché è ancora aperta la vendita dei biglietti. La partita in diretta in esclusiva dalle 14.30 sul Rete 8. Al dei Marsi c'è Avezzano l'Aquila. Siamo consapevoli che i rosso-blu sono una bella squadra e dovremo fare una grande partita, ma sappiamo che non siamo da meno e faremo di tutto per ottenere il massimo. Così si è espresso il capitano dell'Avezzano e il bomber, Fabrizio Roberti, che ha suonato la carica in vista del Super Derby in programma domani alle 14.30 allo Stadio Marsicano. Sicure le assenze tra i biancoverdi di Bolo, Forte e Damceschi. Bomber Roberti a quota 11 reti e uno dei giocatori più attesi dai tifosi di casa per abbattere il muro difensivo dell'Aquila. 21 gol subiti in 28 partite di campionato, miglior difesa del girone. La squadra di Cappellacci è priva del portiere titolare Michielin, ancora convalescente dopo l'infortunio al gomito. Al suo posto, tra i pali, dovrebbe esserci la conferma di Cerroni. Al Dei Marsi si viaggia verso il sold out. 600 già i biglietti acquistati dai tifosi di casa, 400 dagli ospiti aquilani. Ne restano a disposizione poche centinaia per uno Stadio che sarà pieno in ogni ordine di posto. Notaresco Real Monterotondo è l'ultima partita della giornata per quanto riguarda le abruzzesi. Fischio d'inizio posticipato alle ore 15. È l'ultimo turno prima della sosta pasquale per il rosso-blu di Bruno, che provano a vincere dopo l'ultimo KO di Termoli. Il mister recupera bomber Nicolas Belloni, che era infortunato e che sarà di nuovo tra i convocati.